Al Via Bivona il progetto sperimentale raccolta dell'umido denominato Egobatia, le strade dello storico quartiere di Bivona, è stato attivato il servizio di raccolta porta a porta dell'umido con l'ausilio degli asini. L'iniziativa è nata a conclusione del laboratorio di educazione ambientale che si è svolto presso la comunità alloggio La Villetta dell'associazione Primavera Ollus e tra le tante iniziative previste l'installazione della casetta del compost nel quale viene conferito quotidianamente la frazione organica della comunità, a sua volta decomposta dai lombrichi rossi che ingerendo gli scarti organici riescono a trasformare i rifiuti in risorsa, cioè l'humus. Allora, Egobatia è un progetto che parte oggi in collaborazione con il comune di Bivona e con Bivona Ambiente, è un progetto che si occupa della raccolta differenziata in un quartiere storico di Bivona che è proprio l'abbatia dove sorge la vecchia chiesa madre con questo bellissimo portale Aro Bonurbano e con l'ausilio degli asinelli, seguendo la buona prassi che già hanno utilizzato a Caccia del Buono con cui abbiamo delle collaborazioni, due operatori della nostra comunità, quindi noi abbiamo due comunità, una per anziani e una per disabili che sono collocate in questo quartiere. Citiamo i nomi delle comunità. È una comunità per anziani che si chiama Giovanni Paolo II e una comunità per disabili psichici che si chiama La Villetta. Allora, questo progetto di raccolta differenziata dell'umido nasce a termine di un laboratorio che noi abbiamo realizzato all'interno delle comunità di educazione ambientale dove i nostri ospiti quotidianamente raccolgono la frazione umida per portarla in una casetta realizzata sempre con un altro progetto all'interno dell'associazione, una casetta del compost dove con l'ausilio dei lombrichi rossi della California viene trasformato in unus, per cui abbiamo creato questo circolo virtuoso dove la frazione umida viene trasformata in compost che viene utilizzato per altri laboratori per fertilizzare le nostre arance e i nostri ortaggi che vengono coltivati su cassetta. Questo qua avviene anche con l'ausilio dell'asinello che abbiamo introdotto nella comunità per attività socio-riabilitativi e in special modo c'è Vincenzo che ha fatto un corso per poter condurre questi asinelli, quindi un corso di tre giorni per fare attività assistite con gli animali. Quindi alla fine di tutto questo progetto, facciamo questo progetto sperimentale e vediamo che viene fuori. Questa collaborazione con i servizi sociali, con i cittadini che si occupano dell'utilizzo degli asinelli per girare attorno a queste piccole strade. Questa qua è una finalità che mette in relazione la comunità e i cittadini del quartiere. Il culmine di una serie di iniziative che abbiamo portato avanti come Bivona Ambiente, grazie all'ingegnere Zafarana che è l'amministratore di Bivona Ambiente e come comune di Bivona nel settore dei rifiuti. Il culmine perché Bivona Ambiente è nata nel 2019 e cura la raccolta in house dei rifiuti per conto del comune. Dal 2019 ha portato avanti una serie di iniziative che oggi ci portano ad essere uno dei 170 comuni virtuosi in Sicilia. Questo è un motivo di grande orgoglio per noi. Il culmine di questo progetto è proprio perché stiamo lavorando su una serie di iniziative legate all'umido perché è la frazione più difficoltosa sia nella raccolta che nel conferimento. Nel 2019 conferire una tonnellata di umido costava appena 40 euro, oggi siamo intorno ai 240 euro. Quindi incide tantissimo sulla tariffa, incide tantissimo sui costi di raccolta e di conferimento. Questo cosa comporta? Comporta che questa tipologia di raccolta che stiamo portando avanti assieme a Primavera Onlus come iniziativa progettuale, assieme ad altre iniziative legate a Bivona Ambiente perché sono imminente la consegna di 50 compostiere domestiche per un progetto che abbiamo avviato nel 2020 e che arriva a culmine adesso dove praticamente molti cittadini avranno la possibilità di fare compostaggio domestico presso le loro abitazioni, presso le loro sedi grazie a questa compostiera che verrà consegnata da Bivona Ambiente e che quindi abbatterà totalmente il conferimento dell'umido. A sua volta i cittadini avranno un vantaggio di questa iniziativa, verranno sgravati per una percentuale intorno al 10% credo, ma non vorrei sbagliarmi, sulla tariffa. Quindi si chiude un cerchio interessante che ci porterà ad avere dei risultati eccezionali, ma la cosa più importante è che i cittadini verranno alleggeriti, da qui a breve, verranno alleggeriti anche nella spesa della tariffa sui rifiuti. Alvia questo interessante progetto che in un certo senso potremmo dire a comune a Bivona con Castelbuono, sindaco? Assolutamente sì, è un progetto che prende spunto dalla buona prassi di Castelbuono e che viene aggiunta di un tassello fondamentale grazie all'associazione Primavera Ollus che ormai da tanti anni lavora sulla disabilità e quindi mette assieme da una parte l'ambiente e da una parte anche la partecipazione di persone che hanno delle disabilità e che quindi si mettono a disposizione della comunità per il rispetto dell'ambiente, per fare una raccolta ecologica attraverso gli asinelli. E quindi come comune di Bivona ormai abbiamo avviato da tempo un percorso con Bivona Ambiente, ringrazio l'ingegnere Zafarana, il vice sindaco che si sono adoperati su questo raggiungendo anche finalmente dei buoni risultati sulla differenziata, ormai abbiamo raggiunto il 70% di differenziata e punteremo a sgravare i nostri cittadini sempre più abbassando la tassa dell'Atari. Questi sono i nostri obiettivi, abbiamo presentato anche un progetto sul CCR e ne presenteremo uno sul centro di compostaggio perché sarebbe una buona cosa andare a fare un centro di compostaggio e quindi abbattere totalmente i costi del conferimento dell'umido. Questi sono gli obiettivi assieme ad una pulizia del paese, ringrazio i cittadini che vanno acquisendo sempre più senso civico nella nostra comunità che diventa sempre più pulita perché vogliamo lanciare in questa comunità questo territorio attraverso i progetti anche della CNAI per cercare di far arrivare più gente possibile essendo un territorio che ha grande potenzialità dal punto di vista paesaggistico e ambientale. Quindi questi sono i nostri obiettivi, gran parte li abbiamo raggiunti ma tanto ancora c'è da fare. Io mi chiamo Bon Giovanni Vincenzo, sono di cammarata, avevo 15 anni che sono qua e voglio dire una cosa, che è un scelto per custodia però di buona condotta passa, tutto qua. Questo progetto di educazione ambientale si inserisce in una vasta gamma di attività che svolgiamo all'interno della comunità, le quali hanno come finalità la riabilitazione sociale dei ragazzi. Questa è una struttura residenziale che ospita 10 giovani adulti con difficoltà psichiatriche. Vivono quindi qua 24 ore su 24 per cui grazie all'equip degli educatori e degli operatori presenti giornalmente scandiamo le nostre giornate, la mattina prevalentemente con attività legate alla loro autonomia e il pomeriggio con attività prevalentemente di tipo occupazionale. Una delle quali è stato il progetto di educazione ambientale che ormai dura da quasi un anno e oggi trova il culmine con l'inizio della raccolta nel quartiere Labbadia. Come dicevo poco fa, uno dei progetti, un altro che ci tiene impegnato per buona parte dell'anno è quello dell'orto orizzontale in cassetta. Grazie al laboratorio di Fallegnameria abbiamo realizzato queste strutture in modo tale che siano accessibili anche con carrozzina e si possa lavorare in una posizione comoda e senza barriere. Una prerogativa nostra è non porci dei limiti, lavoriamo anche in tal senso. Poi ci programmiamo delle uscite con cadenza periodica, sempre con i ragazzi, anche se a causa del Covid abbiamo dovuto passare molto tempo all'interno della comunità. Poi stagionalmente o anche in virtù delle ricorrenze che arrivano attiviamo dei laboratori, adesso è in attivo il laboratorio di Pasqua, i ragazzi hanno realizzato le classiche pecorelle con pasta di mandorle. Lavoriamo anche a progetti molto più ampi, quindi ci poniamo degli obiettivi a lungo termine, anche a sei mesi. Non siamo comunque nuovi a realizzare dei prodotti di una certa importanza. I ragazzi sono stati protagonisti, nonché vincitori ad esempio di un festival a carattere regionale, menti in corto, classificandosi al secondo posto. Nonché realizzato delle vere e proprie produzioni teatrali e musicali che hanno avuto una grande eco non solo locale, ma anche nei paesi limitrofi. Attualmente è attivo il laboratorio di musicoterapia e produrremo per l'estate uno spettacolo. Io faccio parte di questa comunità da molti anni e questi sono i laboratori. Per ora che viene Pasqua abbiamo fatto queste pecorelle con la pasta reale, ora le confezioniamo e queste campanelle, questi fiorellini abbiamo fatto tutto noi con la pasta di sale, quelle che fanno a San Biagio Platani per gli archi di Pasqua. Ce l'ha insegnato qui questa nostra educatrice che lavora gli archi di Pasqua, è una signorara o madonnara? Signorara. Signorara. Sono signorara e madonnara, non vorrei far me la nemica. La musicoterapia praticamente si avvicina un po' agli archi di Pasqua, di portare l'uomo più vicino alla bestia. Ora ci fa ascoltare anche un brano. Sì, la regina della campagna. Faccio un laboratorio di fallegnaveria per i ragazzi e la comunità La Villetta. Quindi nei periodi, diciamo, delle festività che siano Natalizia, Pasquale, si fanno tutta una serie di oggetti che loro poi praticamente si dedicano al montaggio o alla decorazione con altri materiali, diciamo. E poi tutto quello che concerne la struttura, come vedete qua, tutto questo arredamento, diciamo, si porta a parte questa bellissima iniziativa. L'Associazione Primavera ha anche il compito, la voglia, la fantasia, insomma il desiderio di curare questo parco. Ce ne parli brevemente? Questo è il Parco Artistico della Pace, si trova a Bivona ed è nato dalla sinergia tra l'Associazione Primavera, il Comune, la Forestale, tante associazioni e soprattutto gli artisti. In primis gli artisti locali. Io sono uno degli artisti, sono Domenico Gocchiara e sono stato il primo a realizzare opere, come potete vedere qui dietro di me ce ne alcune, sono realizzate nello spirito della Landarte, l'arte che si amalgama con il territorio e quindi qui in particolare con l'ambiente naturale, meraviglioso, che c'è questo parco. Poi man mano abbiamo invitato altri artisti che hanno accolto sempre in maniera spontanea perché qui è proprio una sinergia anche spontanea tra le parti e hanno realizzato altre opere, l'artista e poeta Angelo Giambartino e poi dei murales realizzati da Raffaele Parisi, Vittorio Antonino Pio, Franco Facella, un altro murales che ho realizzato io, Ernesto Lepre. Tutte queste opere sono visitabili gratuitamente, qui già è un luogo di attrazione turistica, vengono tanti turisti, abbiamo avuto il piacere di avere motociclisti venuti da tutta la Sicilia e ogni giorno si arricchisce sempre di più. L'ultima realizzazione sono le descrizioni verticali delle opere che sono state realizzate sempre nello spirito di coinvolgere tutti e di creare un luogo di comunità dai ragazzi del liceo, il liceo locale, il liceo Pirandello realizzare questi meravigliosi pannelli che oggi sono fruibili e domani questo luogo diventa anche un luogo importante da un punto di vista religioso perché per la prima volta da quanto è iniziato questo purtroppo maledetto virus e finalmente riavremo una processione molto importante sentita nel paese che è la processione del venerdì santo perché il parco si sviluppa intorno al Golgotha che è la croce dove per tradizione mettiamo Gesù. Ci troviamo qua davanti a un'opera artistica che brevemente ce la sintetizza? Quest'opera è il cerchio del sole e l'idea è che quando ritornano i bivonesi che abitano fuori a Bivona qua dentro si portano l'ultimo sole d'estate perché durante l'estate il sole tramonta dentro il cerchio quindi si fanno un selfie di quest'ultimo giorno che passano a Bivona.